In anteprima mondiale al Salone di Ginevra Hyundai presenta la i40, è la nostra nuova berlina di segmento D sviluppata e progettata in Europa al centro ricerche di Russellheim anche se per il momento per via della limitata capacità produttiva che abbiamo ancora in Europa dove sono realizzate iX35, iX20, i30 e la stessa i20 è per il momento costruita nella Repubblica di Corea è caratterizzata da quattro motorizzazioni, due benzina e due gasolio le benzina sono il 1.6 e il nuovo NU, si chiama, 2.000 benzina da 177 cavalli mentre le gasolio sono le nuove versioni del motore 1.7 CRDI che già la clientela Hyundai conosce perché è montato sulla X35 da 115 cavalli ma anche la versione alto di gamma da 136 cavalli sarà disponibile a partire dall'inizio dell'estate e vanta alcune caratteristiche che la fanno diventare proprio il modello Modern Premium che cosa significa? Modern Premium come Hyundai vogliamo rappresentare un mondo nuovo, differente fatto di prodotti con una qualità eccellente, un design eccezionale ma soprattutto concreti che offrono di più a un minor costo l'Ai40 è un esempio perfetto di Modern Premium ovvero sia offrire di più a un costo inferiore che cosa significa? Soffermiamoci su qualche aspetto ad esempio questa vettura è l'unica segmento D a rendere disponibile su tutta la gamma caratteristiche molto importanti per coloro i quali l'acquisteranno, siano essi privati o aziende quali i sedili posteriori inclinabili, lo schienale inclinabile e riscaldato lo stesso volante riscaldabile e altre caratteristiche di sicuro impatto come ad esempio il sistema di anti appannamento automatico del vetro anteriore caratteristiche che nessun'altra vettura ha nel segmento D oltre naturalmente alla tripla 5, 5 anni di garanzia 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti che sono un po' il marchio di fabbrica di tutte le Hyundai Hyundai presenta a Ginevra anche la propria strategia di ecocompatibilità già nel 2010 eravamo nella top 5 dei costruttori europei per quanto riguarda le minori emissioni e fra coloro i quali avevano migliorato significativamente il proprio ciclo medio combinato le proprie emissioni combinate della propria gamma di vetture qui a Ginevra presentiamo innanzitutto l'uscita definitiva della Blue On ovvero la i10 totalmente elettrica con batterie ai polimeri di litio che già tanto successo ha ottenuto durante il G20 di Seoul nel novembre scorso poi la versione definitiva della X35 Full Cell quindi totalmente elettrica con praticamente particolari innovativi e nuovi materiali di nuova concezione che permettono di aumentare l'autonomia fino a 650 km altra particolarità la Sonata ICV la prima full hybrid dell'azienda che rappresenterà una base per i prodotti futuri è previsto naturalmente per il 2012 un deciso ingresso di Hyundai nel settore la i40 sarà in vendita in Italia dall'estate del 2011 all'inizio nella versione wagon e poi verso la fine dell'anno anche nella versione benzina anche perché è caratterizzata da alcuni record di categoria come l'altezza per la testa lo spazio per le spalle oppure per le gambe specie dei passeggeri in più nella versione Blue Drive eco compatibile con il motore 1.7 diesel da 115 cavalli raggiunge emissioni record di 113 grammi per chilometro quindi il miglior risultato del segmento D grazie 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 grazie